Ok, siamo all'SEO Meeting e adesso ormai tutti amano questo qua, applicazione Bump, e devi andare contro uno a fare... Bump! 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 It's free! Bump! 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 Don Myers with T-Shirt Wordello and I'm the ITEI with the Firehouse Restaurant Group and General Evil Doer. And I'm here to introduce our friend, Rhea, this is her first time here so everybody give me a call. All right, there we go! Grazie. 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 che vedo il punto, se il codice è messo, è praticamente l'inizio di un inbound request per Google, per il check out, se il codice non è in there, può stoppire il perversione, e tutti i modi sono free.